Buongiorno Daido, devo parlare poco oggi perché come sentite la mia voce non è al 100% ho dei problemi dovuti alla gola e all'età probabilmente ma volevo fare questa puntatina perché mi sono letto un paio di cose interessantissime che voglio appunto riportare una riguarda gli eventi che ci sono stati di Microsoft negli ultimi giorni il Build e il Surface qualcosa ma insomma un paio di eventi Microsoft naturalmente incentrati sull'AI questa puntata è interamente incentrata sull'AI ma insomma ormai è così per un sacco di episodi di questo podcast e poi sempre parlando di AI c'è una cosa che è accaduta intorno all'annuncio di GPT-4O di OpenAI che riguarda la voce la voce è al centro di una controversia piuttosto frizzante che poi vedremo e non sto a fare tanta intro perché appunto devo risparmiare la voce e andiamo dritti nelle news che volevo condividere allora sì il primo evento di Microsoft si chiama Surface Surface Event prendo sempre il recappone di The Verge per vedere un po' che cosa hanno presentato ogni tanto dovrò usare questo coso per rinfrescarmi la gola prima del Build 2024 Microsoft ha fatto questo evento Surface e ha presentato un po' di cose nella sua linea appunto di hardware intanto ha presentato questi Copilot Plus PC che cosa sono i Copilot Plus PC? secondo Satya Nadella il CEO di Microsoft sono una nuova ondata AI nei PC che riguardano appunto questa nuova categoria che hanno chiamato Copilot Plus sono sostanzialmente dei device con dei processori ARM based ARM in particolare Qualcomm, Snapdragon X Elite e Plus ma poi arriveranno anche le versioni Intel e AMD il fatto comunque che ci sia questa transizione verso ARM anche da parte dei Surface e di altri PC di Microsoft è importante sapete che la transizione a ARM è una cosa che Apple aveva già fatto in realtà siamo al M4 quindi alla quarta iterazione dei processori ARM che come abbiamo visto con Apple è un processo che riguarda non soltanto l'hardware ma anche il software, molto software va ricompilato servono layer di compatibilità, traduzione delle istruzioni rosetta nel caso di Apple Microsoft deve fare un po' questo stesso passaggio i Surface con ARM non sono una novità ci sono già stati, non hanno avuto un grande successo però adesso ci sta puntando alla grandissima e quindi anche Microsoft deve mettere in piedi questo ecosistema hardware e software per supportare un nuovo instruction set che è ARM però attenzione perché leggo qui che appunto arriveranno anche processori Intel e AMD non c'è scritto ma sono processori che si sa già che sono x86 quindi Microsoft a differenza di Apple dovrà continuare a supportare due architetture l'architettura ARM e l'architettura x86 e questo raddoppierà naturalmente gli sforzi anche di chi scrive software per Windows perché ok può scrivere software per ARM e poi basarsi sull'era di compatibilità che viene chiamato Prism in Windows che traduce appunto le istruzioni ARM e x86 però questo naturalmente castra un po' le prestazioni quindi non tutti saranno contenti dovranno provare magari a supportare due versioni dello stesso software insomma questo è un po' per dirvi che il panorama futuro di Windows è un po' strano perché supporterà due architetture ma vabbè andiamo avanti i chip di cui si è parlato avranno questo NPU quindi Neural Processing Unit per le feature AI in Windows 11 Microsoft dice che saranno il 58% più veloci di MacBook Air M3 perché va a targhettizzare proprio il MacBook Air M3 poi parla di M3 in realtà non parla di M4 che sarebbe l'ultima versione ricordo a satenadella però non ne parla parla di M3 58% più veloci naturalmente questi benchmark sempre lanciati a caso nel pubblico 58% più veloci in che cosa? in quali task? in quali condizioni? non si sa 58% pigliate questo numero fatene ciò che volete sappiate che siamo più veloci va bene vi do qualche dettaglio in più su questi Copilot PC Plus ci sono naturalmente tanti partner di Microsoft che faranno i loro laptop con queste nuove versioni AI quindi con Copilot Plus si parla di Dell, Lenovo, Samsung eccetera e naturalmente due nuovi modelli della linea Surface dice che questi Copilot Plus faranno girare più di 40 modelli AI come parte di Windows 11 40 modelli sono veramente tanti comunque parte di Windows 11 ci saranno 40 modelli ci sarà l'assistente AI built in che si chiama Copilot ovviamente e questo Copilot avrà accesso al modello GPT-4O che naturalmente però richiederà una connessione a internet Yusuf Mehdi che è exec di Microsoft per Windows ha detto che i nuovi laptop saranno appunto il 58% più veloci di un MacBook Air bla 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 però Mehdi non ha chiarito se questo sarà vero per tutti i Copilot Plus PC oppure soltanto i Surface con modello Qualcomm Elite Snapdragon Elite non si è capito bene anche questo e dice Mehdi alla fine dell'evento questo è un giorno speciale dobbiamo reimmaginare la piattaforma che ci dà appunto lavoro e passione una nuova categoria di PC secondo Microsoft questi sono una nuova categoria di PC e insomma vi dico che i Copilot Plus PC saranno lanciati il 18 giugno con i processori Qualcomm mentre i modelli Intel e AMD verranno lanciati più tardi nel corso dell'anno ma l'afficio che ha fatto più rizzare le antenne e alzare le sopracciglia di questa presentazione è stata una feature che si chiama Recall chissà se non è chiamato Recall da Total Recall non si sa ma di certo non ci fa vedere un futuro distopico ma un presente abbastanza allarmante poi vediamo vi dico intanto che cos'è Recall è una di queste AI features presenti nel nuovo Copilot PC Plus su Windows ah su Windows che rimane tra l'altro Windows 11 nonostante tutta questa ondata di novità rimane Windows 11 non si passa a una nuova major version no Windows 11 da un po' di anni che tra l'altro non ha un grande successo di mercato è Windows 11 però rimaniamo e non viene presentato un nuovo modello allora Recall che cos'è Recall sono dei è un nuovo tool è un nuovo tool che funziona in locale sul PC e logga tutto quello che facciamo sul computer permettendoti poi di fare ricerche e ritrovare i contenuti questo è un po' un annuncio marketing ecco di quello che fa Recall ma andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio dunque gli obiettivi di Recall che Microsoft internamente chiamava AI Explorer sono incredibilmente vasti e includono il logging di tutto quello che fai nelle app il tracking delle comunicazioni nei live meeting il ricordo di tutti i siti web che hai visitato e qualunque ricerche hai fatto e molto di più tutto quello che devi fare è lanciare la Action Recall appunto che è una ricerca AI Powered e ti presenterà uno snapshot del periodo di tempo che tu gli hai dato come contesto a questa domanda quindi è proprio una timeline di eventi di screenshot che Recall effettua del tuo computer del tuo desktop di quello che stai facendo ogni qualche secondo e quindi tutto quello che fai sul PC ti appare poi come una timeline esplorabile che puoi appunto scrollare puoi fare ricerche nei live meetings e nei videos perché ci sono le live captions quindi tutto viene trascritto e anche il parlato viene tutto trascritto quindi anche tutti questi discorsi poi sono ricercabili appunto dall'AI questa roba non funzionerà con tutti i computer Windows 11 devi avere il Copilot Plus PC per qualche motivo in realtà probabilmente motivi di marketing più che tecnici ma insomma dovrai avere l'NPU per far funzionare questa roba e Microsoft promette che gli index di Recall quindi database di Recall rimangono locali e privati on device puoi fare anche puoi fare pausa puoi mettere in pausa cioè puoi dire a Recall di smettere di catturare contenuti ma anche catturare alcuni contenuti già presi oppure escludere alcune app dall'indice inoltre Recall non prenderà gli snapshot del in private browsing quindi l'estensione privata del browsing di Microsoft Edge e poi di contenuti portati da DRM naturalmente quindi se Netflix è salva possiamo dire e in ogni caso dice Microsoft non effettua content moderation quindi non va a nascondere informazioni sensibili oppure password o anche per esempio numeri delle banche numeri dei vostri account finanziari quindi non so se avete capito benissimo come funziona questa roba vi leggo un altro articoletto che ne parla lo trovo su PC Gamer dice come ti sentiresti installare un programma che cattura un'immagine del tuo schermo ogni qualche secondo e le immagazzina tutte insieme in un archivio che si estende per mesi è questo quello che fa Recall se funziona come sperato e l'AI spesso non lo fa quello che quando trova qualcosa in uno snapshot quello che è oggetto della tua ricerca Recall lo analizzerà analizzerà queste immagini e tirerà fuori il file il sito web la ricerca che stai facendo e te la presenterà questi screenshot sono salvati localmente Recall dice Microsoft non li distribuirà non li condividerà con nessun altro utente ma saranno soltanto per te localmente e non saranno usati per fare targeting advertisement e dice anche che non farà screenshot di alcune app di alcuni siti web questo glielo potrà dire l'utente e naturalmente come abbiamo detto le sessioni private e i video DRM protected Microsoft però mette anche in guardia che le persone che condividono un computer con lo stesso account quindi non con account separati ebbè esporranno le proprie attività l'una all'altra tra l'altro aggiunge questo articoletto che se qualcun altro quindi per esempio un agente governativo che sta facendo un'ispezione o un'indagine su di te prende l'accesso al tuo ottiene l'accesso al tuo computer perché magari gli dai tu non solo avrà la tua history del browser che già ti potrebbe mettere in difficoltà no avrà anche un log completo di tutte le attività che tu hai svolto sul tuo computer negli ultimi mesi e insomma saranno liberamente accessibili e consultabili naturalmente gli esperti di privacy si sono messi le mani nei capelli perché questa roba nonostante sia una cosa che potrebbe tecnicamente tornare utile negli momenti beh dal punto di vista della privacy è abbastanza un incubo e infatti leggo su TechRadar che Windows Recall sembra assolutamente un privacy nightmare questo articolo è molto carino vi leggo alcuni estratti quindi in superficie questo sembra una feature piuttosto cool ma il paranoico purista della privacy nella mia mente sta seppellendo la faccia in un cuscino e urlando immagina se tutto quello o quasi tutto quello che hai fatto negli ultimi tre mesi fosse registrato e chiunque potesse averne accesso se ad accesso al tuo computer questo è quello che fa Recall questo sembra un overreaction ma lasciatemi spiegare Recall prende degli screenshot ogni qualche secondo e li salva sul device e questa compresa l'encryption è un'enorme quantità di dati che sono salvate appunto sul tuo PC come spiega Microsoft l'allocazione di memoria di default per Recall su un device con 256 giga è 25 giga e sono circa tre mesi di snapshot di screenshot e questo dice questo articolo è peggio del key logging il key logging è la registrazione dei tasti premuti sulla tastiera quindi Recall non sta soltanto salvando quello che tu scrivi sta proprio salvando tutto quello che fai tutto quello che stai facendo sullo schermo con evidenze fotografiche ogni tre secondi ma questo è soltanto la punta dell'iceberg perché Microsoft dice apertamente che Recall farà degli screenshot proprio anche delle password e dei dati privati perché infatti dice questa nota di Microsoft Recall non fa content moderation l'abbiamo detto qualunque cosa voi scriviate che voi facciate sul vostro desktop verrà salvata nel database di Recall e quindi chiunque ottenga accesso al vostro pc la vostra pc copilot plus ecco potrebbe tecnicamente avere accesso a questo log delle vostre attività anche perché la cosa peggiore di tutte questa roba è attivata di default sui computer certo poi si può andare a disabilitare o a restringerne lo scope però la maggior parte degli utenti sappiamo benissimo soprattutto in ambito Windows che magari non sono informati non sanno bene queste cose non sanno come si fa non sanno magari neanche che esiste questa feature e quindi a loro insaputa insaputa di una grande fetta di utenti questa roba sarà attiva di default e loggerà qualunque attività l'articolo è molto più lungo vi invito a leggerlo si trova su TechRadar si intitola Windows Recall sounds like a privacy nightmare molto carino un articolo dello stesso torno lo trovo su Bleeping Computer che parla sempre di privacy nightmare e parla non soltanto delle preoccupazioni degli esperti di cyber security ma anche di agenzie nazionali per esempio la Data Protection Agency del Regno Unito ha chiesto informazioni a Microsoft proprio sul trattamento di questi dati e su questa feature e poi ci sono le considerazioni di alcuni esperti di cyber security per esempio Kevin Beaumont che è un grande esperto di cyber security e critico di Microsoft che ha detto che tutta questa roba come abbiamo già visto è peggio di un keylogger perché poi ci sono anche già dei malware che riescono a rubare le credenziali di Active Directory quindi vuol dire che potenzialmente riescono a fornire l'accesso a un malintenzionato al proprio computer Windows ecco una volta preso l'accesso queste informazioni questo log è completamente disponibile e Microsoft tutto sommato ha sempre detto che una volta che qualcuno riesce ad avere accesso al tuo device al tuo sistema operativo beh a quel punto può fare quello che gli pare perché la colpa di avergli concesso questo ecco accesso indesiderato è dell'utente è di chi ha la responsabilità del sistema non del sistema stesso e quindi a quel punto se avete fatto entrare qualcuno e non siete stati in grado di proteggere il vostro pc beh è colpa vostra quindi questa roba è un enorme evidente problema nel campo della privacy della sicurezza dei dati personali chissà tra l'altro cosa ne pensa il GDPR di questa roba bisogna aspettare che qualcuno ne parli ma voglio chiudere con la stessa chiusura che fa l'articolo di Bipin Computer su questo fatto che è un quote da un'email che Satya Nadella mandò ai suoi dipendenti insomma ai dipendenti Microsoft qualche tempo fa vi cito soltanto la prima frase se vi trovate in un trade off tra la security e qualunque altra priorità beh la risposta è chiara scegliete la security questo chissà comunque non è invecchiato benissimo è questo statement diciamo così allora non ho mica finito qui ci sono altre feature presentate nell'evento Surface in Copilot ci sono nuove robe di Copilot in Windows 11 incluso il modello GPT 4 O poi c'è il nuovo Surface Pro venduto a 999 dollari che sa in euro non si sa ancora con lo Snapdragon X Elite e Plus quindi non più con l'Intel Core Ultra e vabbè 13 pollici eccetera anche i Surface Laptop da 13,8 e 15 pollici sempre 999 dollari questo è il Laptop 6 sempre con Snapdragon X Elite e Plus e poi come vi dicevo accordi con produttori di app che stanno creando le versioni native ARM64 delle proprie app per esempio si parla di Adobe e poi roba tipo Da Vinci Resolve e altre app CapCut eccetera che forniranno le versioni ARM64 non è finita perché il giorno dopo c'è stato anche i Build Build 2024 cosa ha annunciato Microsoft al Build? ha annunciato gli AI Agents sono degli Agents che faranno compieranno delle azioni per voi ecco parla di monitoraggio delle email una serie di task automatizzati l'onboarding di impiegati data entry ecco tutte queste robe qua senza dover fare continuamente dei prompt ma una volta assegnati questi task dovrebbero essere in grado di portarli avanti autonomamente insomma poi mini multimodal c'è il nuovo modello Fi o Fi3 Vision che è una nuova versione del modello Fi3 o Fi3 annunciato ad aprile questo è multimodale quindi può leggere testi e anche immagini combinarle insieme ma è uno small language model quindi abbastanza compatto da funzionare anche su un device mobile ne vedremo magari qualche dettaglio in più nei prossimi giorni poi c'è una nuova feature in Edge che può tradurre automaticamente i video YouTube mentre lo stiamo guardando quindi questa roba qua Powered by AI vuol dire che può fare doppiaggio dei video dei siti come YouTube LinkedIn Reuters e Coursera con un po' di linguaggi quindi fa anche traduzioni in realtà traduzioni dallo spagnolo all'inglese e viceversa ma anche l'italiano è compreso quindi questa roba è coming soon e vedremo cosa cosa porterà perché effettivamente potrà permettere di guardare dei video doppiati dall'AI nella propria lingua nativa anche se non si capisce la lingua in cui è il video potrebbe essere carina interessante vedremo un po' come sarà implementata poi cosa fondamentale forse l'annuncio fondamentale dell'evento arrivano le custom emoji in Microsoft Teams chi usa Slack sa già cosa sono per tutti gli altri è la possibilità di prendere delle piccole gif animate trasformarle in emoji custom e aggiungere al proprio spazio su Slack questa roba che avverrà anche su Teams quindi grande gioia per chi è costretto dall'azienda a usare Teams arriverà anche un nuovo Snapdragon PC che è un piccolo PC con dentro Snapdragon assomiglia un po' alle dimensioni nel form factor a Apple come si chiama Mac Mini e costerà 899 dollari avrà dentro uno Snapdragon X Elite 32 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte pare che sia un dev kit questo qui e non si sa quindi se sarà disponibile al pubblico però insomma vedremo altra feature sarà possibile utilizzare il file explorer di Windows come repo git o come gestore di un repo git quindi git sarà integrato dentro file explorer quindi da explorer si potrà tenere traccia del cambiamento dei file i commit message i branch eccetera vedremo un po' come sarà implementato poi c'è una nuova feature per le clipboard in Power Toys che sarà Powered by AI in pratica si potrà copiare del testo e poi incollarlo nel formato un po' cioè manipolando il formato per esempio facendo un riassunto oppure incollandolo in Markdown in JSON questa roba qua Powered by AI si potrà anche descrivere con un prompt qual è il formato appunto del paste che si vuole ottenere questo sarà in Power Toys che è un tool aggiuntivo che va installato su Windows il problema è che per attivare questa roba bisogna avere una key di OpenAI quindi bisogna pagare OpenAI per ogni richiesta non è disponibile a tutti gratuitamente e veniamo alla notizia più croccante della settimana vi ricorderete quando abbiamo parlato di GPT-4O che si erano fatti vari riferimenti al film Hair perché nelle demo mostrate da OpenAI c'erano questi sviluppatori di chat GPT che conversavano con la loro voce perché il modello permette di conversare via audio appunto con il modello che rispondeva molto velocemente la voce con cui il modello rispondeva era una voce femminile piuttosto suadente ha un po' ricordato Hair il film di Spike Jones con Joaquin Phoenix in cui la voce dell'assistente virtuale era quella di Scarlett Johansson lo stesso Sam Altman su Twitter aveva scritto Hair semplicemente ebbene noi italiani io in primis non abbiamo subito collegato il fatto che quella voce assomigliasse molto alla voce della stessa attrice di Hair cioè Scarlett Johansson perché un po' guardiamo i film doppiati un po' non siamo così abituati a sentir parlare questi attori continuamente ma negli Stati Uniti questa cosa è stata subito notata è stata notata anche da Scarlett Johansson stessa ma vengono fuori da retroscena piuttosto frizzanti ve li voglio leggere si parte con la notizia che il team legale della Johansson ha mandato due lettere a OpenAI chiedendo alla compagnia di dare più dettagli sul processo con cui ha sviluppato questa voce che la compagnia poi aveva chiamato Sky nonostante se Maltman avesse scritto appunto quel tweet con Hair gli executive di OpenAI avevano subito negato ogni connessione tra questa voce e Scarlett Johansson stessa ma subito dopo questa voce Sky è stata droppata non esiste più in un post su X OpenAI ha scritto che questa voce è stata eliminata per delle questioni riguardo a come vengono scelte le voci su CGPT ma viene fuori che Sam Maltman aveva fatto la corte a Scarlett Johansson per mesi e tutto questo è stato divulgato dalla stessa attrice che ha detto che nove mesi fa Altman le aveva chiesto proprio di permettergli di usare la sua voce nel nuovo modello di CGPT ma la Johansson aveva risposto dopo averci pensato molto e per ragioni personali aveva declinato l'offerta ma due giorni prima che il nuovo CGPT quello appunto con GPT4O fosse rivelato al pubblico Altman aveva di nuovo chiamato Scarlett Johansson chiedendogli di riconsiderare quell'offerta ma prima che i due si potessero risentire e mettersi d'accordo ecco che arriva l'annuncio pubblico e le demo dell'azienda con quella voce che sembra così tanto quella stessa dell'attrice a quel punto per Johansson questo è un affronto personale e scrive in una sua nota ero scioccata molto arrabbiata e incredula su quello che aveva fatto Sam Maltman prendendo una voce che assomiglia così tanto alla mia che i miei amici più cari e gli outlet di news in tutti gli Stati Uniti non ne trovano differenze Sam Maltman comunque ha negato qualunque connessioni tra Johansson e la voce Sky hanno detto che hanno fatto dei cast per l'attore l'attrice che ha interpretato la voce di Sky prima di rivolgersi alla Scarlett Johansson ma per rispetto a Miss Johansson così scrivono abbiamo smesso di utilizzare Sky nei nostri prodotti ci dispiace che non abbiamo comunicato meglio insomma questo è lo statement che ha mandato Altman peraltro in un blog post pubblicato domenica OpenAI ha scritto che la voce in questione conosciuta proprio come Sky è stata in realtà sviluppata con un'altra attrice che ha dato la propria voce insomma alla compagnia e ora non è stato divulgato il nome di questa attrice per ragioni di privacy dice OpenAI ma appunto hanno fatto dei casting e poi hanno scelto questa attrice per Sky assieme ad altri sei attori che compongono le voci che si possono scegliere in CGPT quanto si deve preoccupare OpenAI per questa questione illegale con Scarlett Johansson secondo alcuni avvocati parecchio soprattutto proprio per le dichiarazioni di Semalban di questi ultimi giorni quel tweet con scritto Air diciamo che non lo aiuta e tutto questo potrebbe risultare una cosa piuttosto frizzantina per OpenAI che già è al centro di altre controversie anche con gli attori di Hollywood e quindi dovrà affrontare anche questa roba comunque sapere che Semalban aveva provato a convincere Scarlett Johansson proprio a interpretare la voce del film che lui aveva dichiarato essere il suo film preferito e poi aver ricevuto il suo rifiuto in questo ma aver comunque utilizzato una voce che secondo tutti quelli che la conoscono meglio assomiglia assolutamente a quella dell'attrice stessa beh insomma ci dice molto anche del carattere stesso di Semalban e del modo di lavorare di OpenAI ci sono in realtà altre news croccanti intorno a quello che sta succedendo adesso in OpenAI ci sono anche dichiarazioni di ex dipendenti di OpenAI che gettano insomma diciamo delle ombre sulla gestione dell'azienda stessa ma non c'è tempo di seguirle oggi quindi ve le dirò magari in un prossimo buongionnone sappiate comunque che l'azienda è al centro di alcune polemicuzze che sono piuttosto frizzantine sono andato molto più lungo di quello che volevo quindi vi do dei link senza troppi commenti il primo che vi consiglio assolutamente di leggerlo è un blog post che parla sempre di AI si intitola I want flexible queries not RAG RAG sapete che è la retrieve l'augmented generation questo blog post parla di come gli LLM hanno in realtà molti limiti che probabilmente saranno superati in prossime generazioni di AI generative che supereranno gli LLM però la cosa interessante non è tanto il RAG quindi il modo per andare a dare altre informazioni negli LLM e fondamentalmente farli sbagliare ancora di più certe volte ma in realtà è il modo con cui interagiamo con gli LLM quindi il linguaggio naturale che usiamo per fare delle domande delle richieste delle query ecco questo è un punto interessante che Win Vector autore di questo blog post vorrebbe portare avanti in altri contesti quindi questo blog post ve lo consiglio I want flexible queries not RAG e l'altro post che vi consiglio se volete approfondire la vicenda di Sam Altman e di Scarlett Johansson lo trovo su Slate si intitola Sam Altman is showing us or a release come vi ho detto poc'anzi ecco questo qua ricostruisce un po' la vicenda appunto con Scarlett Johansson e fa un po' di commenti ecco su quello che è successo su quello che sta succedendo a Sam Altman e OpenAI se volete approfondire ancora di più vi lascio questo link e ve lo consiglio basta mi fermo qui grazie per aver seguito anche questa puntata del Buongiornissimo un podcast che va in onda ogni tanto quando ho voglia quando mi va e quando ho tempo e qualcosa da dire infatti domani non ci saremo perché ho delle robe da fare probabilmente settimana prossima ecco tornerò con qualche puntatica di questo podcastino che comunque mi diverte sempre fare al mattino e spero che diverta anche voi spero che vi informi spero di fare qualcosa insomma di gradito noi ci rivediamo a un prossimo buongiornone ciao ciao